La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni sembra finalmente aver raggiunto un punto di svolta. Dopo mesi di scontri, i due ex coniugi sembrano aver trovato un accordo per il divorzio. Secondo quanto riportato dal Corriere, entro sei mesi potremo assistere al loro divorzio ufficiale. Il principale punto di disaccordo tra Chiara e Fedez riguardava il mantenimento dei figli. Tuttavia, sembra che abbiano finalmente trovato un compromesso. Secondo le ultime indiscrezioni, Chiara non percepirà alcun assegno di mantenimento per i figli, in quanto ritenuta in grado di provvedere da sola a Leone e Vittoria. Fedez si farà carico delle spese scolastiche dei bambini, che attualmente frequentano una scuola privata a Milano con rette annuali molto elevate. Inoltre è stato stabilito l'affidamento congiunto di Leone e Vittoria, garantendo così ad entrambi i genitori il diritto di trascorrere del tempo con i bambini in modo equilibrato. È stata anche concordata la questione dell'esposizione dei bambini sui social media. Da ora in poi, i genitori dovranno chiedersi reciprocamente l'autorizzazione per poter pubblicare foto e video dei bambini online, seguendo le leggi in vigore per i minori. Con questi accordi sembra che la fine della storia tra Chiara e Fedez sia ormai definitiva. Entrambi sembrano sereni accanto ad altre persone e l'unica cosa che li separa ufficialmente è il divorzio.